Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video della serie Brawl Stars in Road to Legend Continua, quest'oggi, da argento, dovremo arrivare in oro Buon bel pollicione in su, iscrivetevi al carattere della campanellina, io vi auguro una buona visione Angelo, tutto bene? Sei pronto? Si vola in classificata? Allora, vediamo che mappa ci dà, quale modalità, raffagemme Oddio, qui chi potremmo usare? La mappa è molto aperta Abbiamo sempre prediletto Tick, quando c'era da fare a raffagemme, hanno preso Colt e quello, ok Prendo Piper, prendo Piper che la usiamo per cecchinare gli avversari da lontano Dai, oggi dobbiamo fare una bella streak di vittorie per non rallentare la nostra scalata Bello, già morto, no, separato Uh, muoio io? Forse sì, forse no Non muoio? Tra l'altro ho preso una gemma, non avrei neanche voluto farlo, in realtà Ok, bello secco dritto Morto Morto anche lui Facciamo di questo Distruggiamo pure i cespugli, tra l'altro Bella boccia Distrutto, eh Detonato Vabbè, fatelo fuori È che c'è uno di vita, morto anche lui Eh, distrutto, mamma mia La Piper sembrerebbe essere stata la scelta giusta, raga Decisamente Morto di nuovo Fantastico, credo che si siano letteralmente arresi Quello cosa sta facendo là dentro Buono, vengo indietro Contro alla rovescia iniziato Mamma mia Ma quanto danno facciamo da lontano, raga Wow C'è poi la super che ha tolto praticamente tutti i cespugli a loro Fondamentale C'è chinato Portata in saccoccia in un batter d'occhio, ragazzi, in sta partita, eh 6-0 Nessuno di noi è mai morto Vorrei fare tantissimo gioco ancora con loro Non si può però, non si può Rapina Quindi qua avevamo detto Che il più potente era Edgar Uh, abbiamo anche Dynamike Ci sta E Penny Ok Quindi la tipa con la benda sull'occhio e Penny Devo cercare di ricordarmelo, eh E qua l'obiettivo è ovviamente distruggere la cassaforte Di conseguenza Disinteressiamoci Di quello che succede Cerchiamo di arrivare alla cassaforte Ci siamo scambiati Lo stesso gadget Ho già la super, tra l'altro Che male non è Ma io qua vado Vado dritto, eh Pensiamo a menare duro Bene, bene, bene Stiamo squagliando la cassaforte Non voglio morire Bella boccia It's over, raga It's over, it's over, it's over, it's over Ragazzi ha 10.000 di vita Ho anche la super da poter attivare Non ho più scudo Questo è vero, eh Questo è morto Pensavo di tirare dritto Ma scordatelo proprio Bravo Dritto in base 4.000 di vita Easy, easy, raga La nostra cassaforte è al 70% ancora Lascia di così A posto Portata a casa, raga Anche questa Il migliore Giustamente 101 punti Dai, raga Stiamo andando da dio Stiamo andando da dio Ho preso le misure Delle classificate Vediamo Speriamo K.O Ok Qua mi prendo Piper Ovviamente Sì, assolutamente Piper Colt tra l'altro In squadra con Brock, scusate In squadra con noi E Corvo Griff Aspirapolvere Cos'è quello? Non lo conosco, raga Il terzo non lo conosco Vediamo di usare bene I nostri gadget Griff Muore Muore, muore, muore Griff è andato Ok, proviamo a chiuderlo da sopra Non credo che possa salvarsi Morto Morto anche l'altro Morti Buonissimo Morto Griff 5 di vita Avvelenato da Corvo Abbiamo già vinto Raga Ok Cosa sta succedendo oggi? Cosa sta succedendo? 104 punti Vamos Vamos Oggi non c'è un'aranciata Raga O in succhino Limone e zenzero E qua in questa mappa Non lo so Anche contro Piper O due diamanti Nella vecchia season Ok O sono già diamante adesso? Raga Sveglia Sveglia Non ho preso nessuno Ok Piper sta lì Ela Ela Due colpi andati Mi ha preso Stiamo attenti a non mandare in svantaggio la nostra squadra Eh Ah Bene Mi hanno lasciato da solo Eh Cosa devo fare? No way Dai Piper l'abbiamo uccisa Potete ancora farcela Non stare nelle fiamme magari No dai Ti prego eh Ti prego amico mio Devi andare via C'hai poca vita Ma io mi chiedo Ma come sciocano le persone? Allora Cerchiamo di prendere rapidamente La stellina centrale Tanto ho checkinato Amps Che è la presa Buzz Ci diamo Buzz Per favore Che in caso di pareggio Quella che conta tanto Eh Buzz ha dato Bella Bella mossa Buzz Complimentoni Ok A uno di vita eh Ah se mi arriva addosso Niente Come non detto Abbiamo lo stravinto Bella Bella Una bella partita E si spacchetta uno star drop mitico Let's go Una bella skin Non mi fa impazzire però Ci sta Meglio che trovare altre cose C'è un altro star drop Apriamolo subito Super raro Super raro Va bene Poteva diventare leggendario Quello di prima raga eh Ottimo Foot brawl Ah Vado di Edgar Allora Ecco mi fai vedere Chi è quello lì Che non ce l'abbiamo Sicuramente Ash Ok Ash Ash è questo robot qua Può patina limone Zenzero Per l'energia L'unica preoccupazione Per quanto mi riguarda È Frank In questo momento Io tiro dritto Io tiro dritto Sono abbastanza tranquillo Buono 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 Indietro 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 Voglio Eh si Bella Tutto libero Così Vai 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 È tua Ottimo Bravissimo Sam What Cos'era quella Lo sono stato silenziato Non potevo fare nulla Dai ho anche l'overdrive Cerchiamo di sfruttare la dock Morti Morto Porto dentro raga Abbiamo vinto Il migliore Sono io Argento 2 Vamos C'è anche il premio Che cos'è dei bling Ok Buono Buono Sta andando tutto alla grande Canal grande Ricercati 3v3 Fa vedere un po' Oddio Un botto di cespugli qua Non so se voglio usare Piper Sinceramente Mi sa che vado di Edgar Sa tutto Eh vabbè Anche se sa Non importa Sono in vantaggio Io potrei saltare Vado su Vabbè L'abbiamo Zonato Così Non può far Grazie Andiamo 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 Frank Andiamo Distrutto Guarda anche lui Bellissimo 9 a 0 Raga Ucciso Morto anche lui Bellissimo Oh Ci siamo switchati Che sfiga Bravissimo Edgard Occio 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 15 a 2 Eccomi Distrutto Distrutto Abbiamo vinto Wow 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 8 a 0 Raga Ho carriato Completamente Il game Un altro vetto Oddio Mifico Così 500 bling Abbiamo tutte le mutazioni Ci sta E proseguiamo Ancora Ok Buono che l'hanno già squagliato Aia No io ci muoio qua Ci muoio Prendiamo goal Così Eh raga O morivo O mi allontanavo un attimo Cosa mi ha stunnato Dai dai raga Tornate Dovano fare il giro dietro Eh vabbè Niente Ci hanno detonato Completamente Meno 37 punti Ci sta Raga Footbrawl Proprio non mi ci trovo Poi questi sembrano Tutti belli precisi Ok Dominio Vado di Frank Sì Vado assolutamente Di Frank C'è Dynamite Contro Che ci sta Perché dalla parete Può lanciare Quando come vuoi Le bombe Forse non hai Non avrei preso Edgar In campo aperto Però Vediamola Oh mio dio Ne hanno già detonato Con Dynamite Si è già preso La ulti What Preso Eh raga Però dovete Fare qualcosa Cioè io Posso uccidere uno Ma sono comunque Frank Super di quello Super di quell'altro Tirano Tirano tutti Da lontano Avevamo fatto Un mini Comeback Ma è stato Inutile Che cosa Dobbiamo fare Cioè Buonissimo Shelly è morta Che lui No Scaffato Ma per poco Credo Come Dai Era telecomandato Raga Era il proiettile Ve l'ho telecomandato Doveva colpirlo Vabbè È andata bene lo stesso Quindi Non ci lamentiamo Vinciamo anche questa Back to back Stiamo da dio Ok Buonissimo Già recuperato Tutte le sconfitte Buono 2186 4 vittorie Per Argento 3 E se vinciamo La prossima Un altro star drop Aie Dai eh Qua bisogna performare Devo dare un colpettino A colt Buonissimo No ma è morto un compagno Ma stai scherzando E adesso mi pushano qua Aiuto Non ci posso credere Allora Mi state comportando Un po' in modo Bislacco Se posso dire La mia Opinione Cioè Ragazzi È inutile Che fai il pagliaccio Se ti comporti Da pagliaccio Lo sei Puoi dirlo Agli altri Colt è praticamente One shot Lì eh Buono Lacario 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 Raga Easy Ho salvato il round Incredibile Dai Un po' di fiducia Ma pensavo Ti avrei già perso Sono FK Allucinante Per quanto mi riguarda È allucinante Bello Secco Scappa 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 L'ho ripreso È molto bene È molto buono Ragazzi Ho carriato la partita L'ho vinta io Vi rendete conto Che l'ho vinta io Incredibile Cosa ho fatto Cioè Qua l'ho giocato Da Dio Il migliore Buono Buono 98 punti Sacocetta E qui me lo dovevi dare Almeno mitico Però è per quello che ho fatto Almeno mitico Rapina Il primo Bo sta dormendo Tipo Pensiamo a distruggere La cassaforte Madonna Quanto sono forti No vabbè Sono fortissimo Cioè Edgar è fortissimo In questa modalità Troppo broken Troppo broken Abbiamo vinto Non ho potuto fare nulla Nulla raga Incredibile Questa partita Non veloce Di più Ho letteralmente Squagliato la cassaforte Ok Dominio Non farò lo stesso Errore di prima Quindi niente Frank Oddio Sai che qua Dynamite Potrebbe essere interessante Però Non ce l'ho maxato Ma non importa Buono Edgar è stato Polverizzato Stiamo qua Vai lì dietro Bello Bellissimo Dai che si parla 3000 danni Aiutatemi Ragazzi Ok Non so cosa mi abbia ucciso È comparso un cristallo Dal pavimento Ma i miei compagni Hanno capito Che devono stare Dentro Non posso vincere La partita Da solo Amps Amps Ha fatto 3000 danni Cioè mia nonna Giocando con I piedi Probabilmente avrebbe fatto Di più Amps C'ha uno di vita Se volete ucciderla Mi fate un pavorone Ho presa io Ovviamente Buono Piper a casa Oh Miai compagni Hanno capito Che possono essere Aggressivi Perché sto Squagliando il team Avversario Ok Allora io farei di questo Qui Buono Abbiamo tolto Tutta la strada Bravissimo Un ottimo teamwork Mortan Camps Sono troppo forte Raga Con Piper Raga Sono devastanti Devastanti Pazzo Pazzo Eh Meno male Ok Quindi la sconfitta Di prima È annichilita Il nostro Edgar 00 5 0 Bono La prossima vittoria Ci porta in argento 3 Ad un passo Dall'obiettivo di oggi Ricercati di nuovo Ovviamente Piper Ovviamente Piper Per forza raga Piper uccisa Aia Dynamike ha fatto una bella giocata Dobbiamo girare dall'altra parte E Dynamike non ha capito che Se pensava di vincerla così facilmente Mo' si sbaglia di grosso Ma guarda te Quella lì cos'è che lancia? Le nuvole speed di Dragon Ball Ok Dynamike ha usato la super Molto bene Ho preso Piper Però raga Dynamike sta carriando la squadra avversaria Che li devo fare? Cioè non riusciamo ad avvicinarci a quel muro Quindi è Eh vabbè Allora qua il mio obiettivo potrebbe essere Cercare di uccidere gli avversari Più che distrugge la cassaforte E vediamo in alcune circostanze Se riesco Ok ottimo Partiamo già con due kill Che è tanta roba Quella muore Ok Buono io da qua giù posso colpire la cassaforte Raga Vivo curiosissimo Angelo è stata la scelta azzeccata Più azzeccata di questa non potevo farla Guarda vattene vattene Easy Come? Che range ha? Che range? No abbiamo il 5% alla base E abbiamo perso Eh vabbè Raga ho fatto tutto io il danno che avete visto alla loro cassaforte Cioè non Nessuno dei miei compagni ha fatto un danno singolo alla cassaforte L'unico Vediamo di vincere questo KO con Piper Per favore Per il morale Soprattutto Bella boccia Ah squagliate eh Nel senso Forti tutti Bello Bello Ho la super Ho i gadget Abbiamo ancora tutto Focus Mi è scappato Farei così Comunque Ehi Sono vivo Quello che conta Buono Dai Bru No way Ho 38 di vita Oh mio dio Let's go Cecchinato Il migliore E lei? Non è ancora lei Perché abbiamo perso troppe partite Cannaggia Dai che vogliamo argento 3 Rapina Ok No stavolta non sbaglio raga Stavolta non sbaglio Stavolta non sbaglio ve lo dico Non me ne frega Buono Ci sta Devastati tutti Già il 25% Eeeh Gli stanno detonando la base Tu dove pensi andare scusami? Sì 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 Cioè questa è la cosa assurda È che adesso Cioè loro non possono fermarmi Capito? Cioè mi ha stunnato Sì ma Quanto dura Capito? Cioè Edgar in rapina Non ha senso di esistere È troppo potente Argento 3 Vamos Ci mancano 500 punti Per arrivare in oro Dai che c'è anche da spacchettare Tra l'altro 100 blink Solo blink ormai Non ci spetta altro No ho sbagliato Ho sbagliato Pensavo che fosse l'altra mappa Qua dovevamo prendere Edgar Dai calma Calma Posso contare anche sui miei amici Buono Uno l'ho preso in pieno Edgar preso in pieno Dai che quello muore Dai che muore Edgar Buonissimo Mi ha reso in pieno anche lui Morto Vabbè in realtà Sti corridoi sono bellissimi Per colpire Maxim muore Maxim muore Preso Cecchinato La mia taglia è bella grossa Eh sì Devo stare attento Banonna Fortissimi raga Abbiamo giocato da Dio Da Dio 3-0 6-0 Parte Bo Che ha fatto 0-2 Però Molto molto bene Ragazzi continuiamo così 4 vittorie E siamo in oro Rapina E già sappiamo tutto Già sappiamo tutto Edgarino Edgarino Vieni bello Vieni 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 Dai Buono 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 L'abbiamo portata al 30 No 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 eliminarlo 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 No 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 raga Nooo No ragazzi Dai che muore Amps Insistete Porta Porta Dai ho dovuto fare questo raga Anche se non l'avrei voluto Però Devo fare il giro Oh basta Dick Mister fastidio Eh niente ci muoio Sapevo Raga non morite per favore Se ve lo giuro Perdere la partita Quando sono il migliore Madonna che fastidio Cioè Se non sapete usare un brawler Nelle classificate Non usatelo E che partono tutti casati nel pushare Poi vengono colpiti da me Tornano indietro Morta Shelly sicuro Dai bro Dai Cosa Quanto lontano è arrivato Scusami Dai Fang Prendi tutto tu Prendi tutto Prendi tutto Sono 10 Game over Game over Literally Anche se non si avvicinano più Easy Buono 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 Vamos con la scavata Again 2677 Ci servono 4 vittorie Fortino delle gemme 3v3 Fammi vedere la mappa Prendo tick Ok Shelly Da onde vai Quella muore Giusto Quasi Oh Sta chasando Allora All over drive Non necessario Adesso Aia Ok Vogliamo prenderle Quelle Cos'è che mi ha ucciso Perdonami Bro Devi prendere le gemme No ragazzi Ma cosa stanno facendo Buonissimo Buonissimo Fuggire 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 Non ha tirato Lo super Dove Caspita Eeeh Cioè Il migliore Della partita 70.000 Danni 7 kill 2 morti E dobbiamo perdere Da quel fiorellino Che ha fatto 0-3 Diamante Diamante Noi Tutti Argento Ok Vediamo Vediamo che succede Byron Praticamente morto Morto Frank ha deciso Di andare a morire Così a casa Ho detto Sai cosa A me non mi frega niente Che c'è una partita Vabbè In realtà Top Dai Dai che sono i tuoi C'ha la super Dynamite Vabbè Li teniamo là Ma è fighissima Questa skin Ma è fighissima questa skin Certo Pazzesco Pazzesco Ti prego Carriela Cosa Come Bella la super Bella Bellissimo 1-1 C'è poca vita Vai adesso Mi lo tiri dietro il muretto Hai vinto Dai Dai che è tua Dai Dai Se lo cesano Gli uccido Dai Ramite muore Preso Famous Cosa muore Oh E' buona E' il veleno di Byron Ok E' one shot E' one shot questo Non può vincere Dai non c'è verso Abbiamo recuperato Sì Wow Wow Questa ci voleva per il morale Troppo importante Troppo importante Raga Ok E' Fammi pensare Prima abbiamo comandato Con Piper Però anche Edgar Secondo me Tutti i c'è spugli Se la gioca bene Piper Morta Posso sapere Cos'è che mi continua A fare danno Overtime Aiuto Uncisa Piper Godo Godo Sì 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 Andiamo Andiamo Due vittorie Ci separano da oro Dai Partiamo con un bel missilino E Colt è morto Oh 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 Ci siamo uccisi a vicenda Bene Meraviglioso Vabbè Potremmo anche non essere Nella scia di Colt Sarei stato bene lo stesso Che mi ha cesato Però ed è morto Bene Godo assai Cecchinata Piper Molto bene Colt muore Molto bene Muore anche lui Molto bene Piper Cecchinata di nuovo Godo tantissimo Godo tantissimo Raga Piano Piano a cesare Così Colt morto Abbiamo vinto Let's go Il migliore Eccomi Raga Se vinciamo questa Siamo in oro Forza C'è da spacchettare Mi sa di sì 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 Spacchettiamo Spacchettiamo che ci porta fortuna Abbiamo due star drop da aprire Raro Ok Un po' di gemme Metti in saccocetta Un po' di bling E un altro star drop Sempre raro E niente Non si può avere una gioia Troppo grande No Cosa sto chiedendo Qualcosa di incredibile Stavo per dire tutto Tranne foot brawl Arraffa gemme Arraffa gemme ci può stare È una mappa molto aperta Raga io vado di Piper Tanto il tankone ce l'abbiamo Dynamite che mette le bombette Qua e là ci sono Vai Potrebbe essere l'ultima partita Che ci separa da oro Non dubbio quello lo cerchiamo di uccidere Ok sono uccisi tra di loro Scappa il primo Ok ci penso io C'è spugli detonati Ok Non ho molta vita Quello mi fa paura Però va bene Se va sul primo va bene Ok C'è chinato Brock Lui muore Buonissimo Morto anche lui Mamma mia Mamma mia Ragazzi Stiamo zonando Che male No eh Morto Brock Dai dai 7 a 2 Controllo c'è Per adesso Non dobbiamo farci allontanare Dal centro però Dai che muore il piccolino Cosa mi ha ucciso No raga Quella roba è arrivata Troppo lontano Non ti accorgi neanche Perché non ho Impossibile Uccidetelo Vi prego Vi prego Raga Vi prego Dai La mia partita Di qualificazione Per oro Nel cesso Perché Che cosa Mi devo dire Cioè 45.000 D'anni Il migliore Della partita 7-2 Ma abbiamo perso Lo stesso Cioè Questa E ovviamente Adesso ne devo vincere Due Non ne basta più una Perché essere il migliore Racconto No ragazzi Non Vabbè Dai iniziamo a prenderci Sto dominio qua Dai che abbiamo vinto Per favore Il migliore Strano 5-0 99 Pancano 12 punti Raga La prossima partita Dobbiamo vincerla per forza Casca se il mondo Non mi dare Footbrawl E siamo Amici Rapina Non sanno niente Sto Edgar Si è addormentato Morto Vai 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 Ragazzi Vai 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 Ottimo 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 Ho tenuto lontano Spike Abbiamo fatto una marea Di danni Già al 50% No Ho miscliccato Non ci posso credere Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Si Let's go Let's go Base trade Erroraccio Oro E andiamo E abbiamo uno star drop Mitico da aprire Fammelo godere Dammi qualcosa di fighissimo Per favore Va bene È meglio di un emote Preferisco 500 monete E la missione di oggi È completata Cari amici Road to legend Continua nel prossimo episodio Da ora Arriveremo in diamante Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Della campanellina Ciao a presto Per il prossimo video Qua è sempre tutto Puri Ragazzi riesco veramente Ad arrivare a legend Impazzisco eh Vi ricordo che abbiamo 11.000 trofei Che non sono neanche tanti Però Mi mancano ancora Tantissimi brawler Da livellare Ciao a presto Grazie a tutti.